Il sindaco Pierluigi Biondi, dopo la polemica sull'inaugurazione del Parco della Memoria con il Premier Mario Draghi e con il Ministro Mara Carfagna, lancia un nuovo appello ai familiari delle vittime e rinnova l'invito a partecipare alla cerimonia il prossimo martedì 28 settembre. Un nuovo appello che arriva dopo il durissimo attacco di Vincenzo Vittorini, rappresentante del Comitato Familiari delle Vittime. Vittorini aveva fatto sapere di non partecipare a quella che ha definito una passerella in cui i cittadini sarebbero degli orpelli, delle marionette di una manifestazione prettamente politica. Un botta in risposta in cui Biondi si è detto sorpreso dalle parole di Vittorini, il primo ad essere invitato, secondo Biondi, dopo il CD Draghi e l'ok della Prefettura. Per il sindaco, insomma, sarà un giorno di raccoglimento e prospettiva e quello del governo è un segnale di vicinanza e attenzione importante e rispettoso per lui parlare di passerella. Diverse le reazioni, però, molti familiari delle vittime hanno scritto sui social commentando la notizia di non sapere nulla. Anche l'avvocato Maria Grazia Piccinini, mamma di Daria Rambaldi, studentessa che ha perso la vita in quella tragica notte sotto le macerie della casa di via Campodifossa e che ha seguito i lavori sino all'ultimo, ma non è l'unica che afferma di non essere stata invitata tra i parenti. La polemica corre pure sul filo della politica. Il consigliere Lelio De Santis ha chiesto il rinvio. Paolo Romano dice che sarebbe stato necessario il buon gusto di concordare con i familiari. Intanto, però, i preparativi fervono. Il premier dovrebbe giungere in città intorno alle 10.30. La cerimonia sarà fatta con un dispiego enorme di forze dell'ordine per garantire sicurezza e rispetto delle norme anti-covid. Ma in piazzale Paoli la cerimonia sarà pubblica, senza numero chiuso. Del resto il parco è della città e dei suoi cittadini. Siamo nel parco della memoria. I lavori ormai, i lavori quelli grandi, sono terminati da un po'. Qui, martedì prossimo, arriveranno il premier Mario Draghi e il ministro Mario Carfagna. Una visita che ha suscitato, come dicevamo, qualche polemica. In queste ore si stanno ultimando i dettagli finali, soprattutto la ripulitura da parte della ditta che ha effettuato i lavori, da parte dell'SM e l'azienda comunale, per far sì che tutto sia pronto per questa cerimonia pubblica che ci sarà martedì. Lavoro in corso, quindi, in questi giorni per rendere tutto pulito e pronto per martedì. Piazzale Paoli si veste di nuovo con la memoria incisa sulla pietra. Il personale dell'SM e della ditta che ha fatto i lavori sta ripulendo tutto per rendere il parco pronto e fruibile, ricordo e memoria, anche per le giovani generazioni.